Siamo in Fiera Ecomondo con Rilegno, dal 6 al 9 novembre 2013 alla Fiera di Rimini. Ogni anno, grazie al lavoro del Consorzio, gli imballaggi di legno e gli altri rifiuti legnosi raccolti in modo differenziato sul territorio nazionale e avviati a riciclo e recupero, rinascono a nuova vita sotto forma di pannello trusolare, ovvero il materiale di base per l'industria del mobile, da cui nascono nuovi armadi, cassettiere, scrivanie e altri complementi d'arredo. Ad esempio, con il riciclo di 4 pallets si fa una scrivania, con il riciclo di 30 pallets invece è possibile ottenere un nuovo armadio.